che ci rappresentano, che noi strapaghiamo, sono i nostri dipendenti, come dice giustamente Beppe Grillo. E loro ci rappresentano così. Ma sono dei buffoni, cioè io non ho parole qui. Ma adesso chi votiamo? Chi dovremmo poi votare dopo? Adesso, vabbè, questo è caduto. E' inciampato uno, ma la situazione è veramente precaria e io sono veramente preoccupato. E' inciampato uno, ma la situazione è veramente precaria. E' inciampato uno, ma la situazione è veramente precaria e io sono veramente precaria. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, canse piano piano. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono italiano. Allora, regà, pensate bene le orecchie. Questa sera, bella regà, questa sera, tutti uniti, eh, discoteca Nuova Idea, Milano. Alle ore, dalle 22 in poi.